ecco le cronache del capodanno 2017 questa è la situazione in a house cioè c'è gente che sta in giro a fa casino invece noi praticamente stiamo belli tranquilli tranquilli con un po di musichetta un piatto di pasta corpesto vegana e quindi e poi vabbè forse qualche dolcetto non sarà proprio vegano perché ci ficcano dentro qualche cosa ma insomma buon 2017 a tutti da mulla e ricky oh mi raccomando esagerate divertitevi godetevi la vita